Mungo Yoshiko Aiuto! Che scena ridicola! Aiuto! Quello è il suo braccio, si vede? Sì, ma io mi annoio qua, vabbè Chi è lei? Si presenti? Ciao! Sì Manga magica, super eroina giapponese Oh, è un manga lei quindi? Sì Ah, come che è il guerriero? Sì Mi ascia? Chi è? È il mio super nemico Ah, un super nemico? Sì Come si chiama? Spadafora! Spadafora! Sì Ah, è cattivo È cattivo Spadafora! E quindi lui... Non nominare, mi spaventi Ah, quindi io se dico Spadafora... Ah, dai Scusi Ah, l'hai pensato? No Eh sì, ti dico, ti sì Non è vero Non lo devi pensare Adesso lo pensavo... Eh... So zitto Sì Quindi lui diciamo ha sempre la meglio su di lei? Beh, diciamo che... Quando... Quando pareggio... Sì L'ho detto bene Sì Ah, ecco Sì Quindi vince sempre Sì, sì, sì Vince sempre Lui arriva e mi corca Ti corca? Mi corca Mi... Mi sderena Mi sderena Mi colunzio Ma che linguaggio è? Questo non è giapponese Ah... Perché io te sembro giapponese? Beh, effettivamente Non vorrei proprio conoscere Quello perfetto idiota Idiota, sì Che mi ha disegnato È questa la la... Eh, lo so Eh, lo so E io non c'entro niente Eh, c'entro pure te Perché sei amico suo Ma non è vero Non lo sapessi Ma... Ma quindi non esiste nessun posto dove... Lui non la corca Bravo, invece sì Esiste un posto Ah, esiste? Dove lui non mi corca E dove? Sei pronto? Sì Il ristorante cinese Sì Il ristorante cinese? Sì E perché? Tiate, perché? Tiate, perché? Perché? Alzo le so Eh, vabbè, ma chi vuol prendere in giro con questa storia? Ah, ma la mia maio di unite Ma cosa hai? Eh, lo so Allora, maio di unite Ma che cosa fa? Maio di unite Che fa? Gigioneggia? Sì, gigioneggio Scusa, ci sa? Alexander? Sì Il cartone animato, Alexander Eh, dico, no, quello Fa la guerra contro gli aristotelici Gli aristotelici, eh Perché lei non li conosce perché è ignorante Quello si sa Sì Quello si sa bene Sì E io posso stare tranquilla dentro gli ristoranti cinesi Che c'è? Che cosa fa? Sta arrivando Sempre la solita storia Chi? È il mio super nemico Spadafora Sì Ti dico Sta arrivando Ma non è vero Non lo vedo Sì E non lo vedo È perché lo vedono solo le persone intelligenti Ban, 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 ban Su, su, su Che vorrebbe dire? Ti dico di sopra Ecco, invece Improvvisamente lo vedo Ah, sì L'hai visto? Ma non è vero Sì, sì, sì No? Ma la vedi che non sei intelligente? No 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 Ma non è vero Ma non è vero